La scorsa settimana un membro dell'opposizione del comune di Santo Stefano ha attaccato la gestione dell'ex ceramica Vaccari definendo eventi solo locali, quelli che si svolgono appunto all'interno. Come risponde il sindaco? Beh, francamente diciamo che Ponzanelli parlava di blef della Vaccari, io credo che sia l'ennesimo blef di Ponzanelli. Ha raccontato delle spese folli, oltre 2 milioni e mezzo, citando poi invece l'unico provvedimento che fa riferimento ovvero cioè quello di 1 milione e 379 mila euro, di quali 500 mila garantiti dalla Regione per l'analizzazione di uno spazio con tutti i grismi. Ha detto in quell'occasione appunto non solo degli eventi locali ma ha raccontato che quello spazio non ha all'interno bagni piuttosto che spogliatoio, la biglietteria. Lo invito a venirla a vedere come hanno fatto già ormai centinaia di persone nei vari eventi, anche locali perché non c'è niente di male a coinvolgere la comunità di un territorio in uno spazio che è a disposizione di tutti, dell'auditorium. E soprattutto mi pare veramente strano che ponga questa questione anche come sistema di controllo regionale quando proprio all'inaugurazione ormai del maggio scorso hanno preso parte proprio quei funzionari che a sua volta avevano come dire in occasione della conferenza dei servizi dato il via libero al progetto. È chiaro c'è uno spazio dell'archivio che è lo spazio della tutela quindi uno spazio chiuso che non è certamente quello nei quali si fanno diciamo eventi pubblici c'è uno spazio che è l'auditorium che è quello che è stato messo in occasione di non so eventi come la festa delle scuole piuttosto che eventi come il congresso provinciale dell'Unione Ciclistica oppure dell'appuntamento annuale della festa del Magra Azzurri quindi la squadra del paese ma è stato anche come dire teatro quest'estate peraltro pagando seppure addirittura l'affitto delle prove generali dei contratti di Franco Batteato e di Allevi. Quindi in realtà si alternano attività che sono quelle che sono vicine alla comunità a quelli che sono eventi di maggior pregio come è stato con Cantieri Creativi o ancora di più come è stato in occasione di quest'estate quando abbiamo ospitato il concerto di Patty Smith in cui l'occasione è criticato per i costi eccessivi ma che addirittura è stato premiato dall'attestata giornalistica della stampa come uno degli eventi più importanti di tutta la regione. Quindi io credo che Ponzane dovrebbe mettersi d'accordo prima di tutto con se stesso.